parte 5 parte 5 amici miei allora continuiamo continuiamo questo avventure continuiamo continuiamo questa adventure allora dormi ciccio riccio dormi allora dobbiamo trovare il fabbro secondo me raga ah porca devo salire di qua ci dobbiamo far da magna ma da magna ce l'abbiamo allora potremmo andare direttamente anche di qua guarda che bel giochino portiamo stasera ai nostri amici registrato però su youtube certo è bellissimo mi faccio mettere il rimare remare remare è la cosa più bella da fare allora in realtà qui siamo sempre sulla stessa isolata e come faccio uscita stai io proprio andarmene secondo me ancora e niente dobbiamo farci un giro è lunghissimo lunghi lui è un grande con la partenza molto rilassato vedi è un grande con la partenza molto rilassato vedi che è un grande con la partenza molto rilassato vedi non ci fa farsi un bel petto a pericola e bella grande Ah ah ah, ho preso la cipolla, ormai sto tornando dall'altra parte. Ho scoperto un'isola nuova, io credo proprio di qui. Vediamo? Eh si raga, aspetta. Ah 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 ah. Non so come fregarli. Posso camminare? Oh fantastico, fantastico. Oh il riso, incredibile, incredibile. E' un gruppo, è un archipelago, è un gruppo di isole. Cipolla. Non riesco a capire se va... No, siamo verso l'ultima. Sì. Dobbiamo andare da questa parte. Allora, facciamo subito con la pala. Cipolla. 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 Ah, quasi mi sgamava, eh? no, niente, questa è la barca mamma mia, per un granchio, c'era un già il granchio mamma mia io direi di trovare prima le cose perché pensavo che mi davano una nuova specie di pesce e invece no avevo lasciato la barca va buona è solo granchietico non sa che va a fare l'ora di là questa è la barca la barca è la barca è la barca è la barca non c'è nulla è la barca 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 medica Tra l'altro è scappato a notare. Cavoli. C'è un diventer che c'è l'ivo. Il manufatto. Il manufatto. Io stai molto attento. Ho paura. Eccola. Tante cipolle. Sì, la corda. Allora direi di là avevo sprecato la corda per fare il... Pensavo ci fosse un sistema figo di... Oh! Brenda! È felice di vederti. Molto piacere. Questo è il presente della nostra destinazione del sud del nord. Hai trovato gli altri? Hai un accampamento? Fantastico. Sembra che trovi. Andiamo via. Brava! Un bel trofeo. Un bel ritrovo. Bravissimo. Bravissimo, Brenda. Sì. Brinca. Chissette? Pien. Ok. 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 Allora. io farei anche lei e Brenda poi patata a lui pomodoro facciamo agli altri e vai no lo adora la patata il mais lo adora non piace non piace insomma se vi piace ma non è che vienano macchina ok allora che cos'è primo barile d'acqua un piccolo barile d'acqua aperto vicino a un terreno continuato oh non è male eh io volevo eh se no aspettiamo un attimo vedi le corde un sacchetto di pesce specifico forte 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 aspettiamo un attimo dare la ricompensa tanto l'arico non è tanto un problema allora arriviamo un attimo qui Grazie a tutti. Ok, allora qui il riso, il riso. Il riso, ragazzi, il riso. Quindi facciamo tre di qua. Così almeno il cibo non ci mancherà mai. Allora, più di una volta sono rimasto a corto. È bravo, non mi fare la notte proprio adesso. Oh, così con la luce è ancora peggio. Ok. Devo stare molto attento che la maggior parte delle volte svenivo. Allora... 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 Ok... È un lavoro duro, eh? Ok, parliamo con Charles. Ok, giù. Grigio. 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 Quindi il pomodoro non lo è. Allora il pomodoro è giusto. pomodoro riso è giusto questo facciamo questo allora uno è sbagliato facciamo carota patata 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 i detti di me di un brasato insaporito allora io farei riso zucca riso ci siamo patate allora facciamo cipolla ok porca loca ma cose strane ragazzi cipolla merlin con riso brasato ok ok dobbiamo vedere se ok porca loca ho sbagliato schiacciato allora riso che cos'è che ho combinato riso e carote secondo me ok merlin è qua no allora riso ok riso con granchio riso granchio e menzana e cipolla secondo me esatto vedrai che la cipolla il pomodoro no il crabby patty non ci credo non ci credo il crabby patty ah 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 una forma super spesa plankton non è permesso di conoscerla incredibile incredibile il crabby patty bellissimo ok da mangiare allora lo parla con Charles e vediamo un attimo come finirà la storia signor mio ho sentito che sei già in grado di trovare due delle donne una selezione da lì e le altre tutte signor mio sono in grado di selezione nuova sono in grado di selezione di vendita non torni a casa va bene si sento bravissimo mi pare che ancora bisogna del tuo aiuto di un letto sopra la testa certo logan logan dovrebbe essere questo qua capane casa contemporanea supongo avrebbe bisogno di molto legname ok 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 amica mia cecilia assi legno supporto il tassello allora dai supporto legno assi tassello assi 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 ass assi assi grazie a tutti l'entroterra è di là però io credo assi di legno supporto metallico trasferito o sarei contenta piace va bene sinistra dal calmo e teresa che non vedo dove si possa far la baracca ok ok invece brenda vuol fare la casetta brenda lei cosa vi piace a livello di no aspetta mi ricordo più buc casetta no questo no allora iniziamo a no forse non abbiamo abbastanza sì il tuo armi vorrei vedere solo la brenda dov'è la casetta della brenda quella qua qua manca tutto la famosa corda ma questa isola e dobbiamo andare qua secondo me raga chi c'è corda chi c'è la corda 2 andiamo a dormire va 1 no Allora per fare la baracca della Teresa bisogna... Allora per fare la baracca della Teresa bisogna... Allora dobbiamo trovare la corda... Io non so neanche... Ragazzi se abbiamo fatto da mangiare assolutamente no... Porca loca... Vediamo cosa cacchio facciamo... Ma si può andare... Secondo voi in... All'isola... Gratis... Assolutamente... Assolutamente no gratis... No gratis... Ok... Allora... Vediamo la parte di isola non scoperta... No dai di la verità... Dai vai... Ma io ho fatto una cavolata ragazzi... Vabbè qua possiamo... Tranquillamente... Tornare di lì... Ma qua non ci vado su... Assolutamente buono... Come faccio ad andare su di qua... No dai... Non ho portato nessun mangiare... Incredibile raga... Nooo... Vabbè... Allora facciamo una cosa... Peschiamo eh... E poi torniamo alla base... Perché qua... Ho fatto... Una stupidata... Non ho... Non ho portato niente da mangiare... Oh... Questi qua... Sono... Beh dai tosti i granchi eh... Eh... No... 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 gratis la testa no ma sei stupid assi no c'è ragione lui dai che svengo dai che svengo possiamo tranquillamente andare a dormire secondo me ok finiamo 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 questo capitolo e ci vediamo al prossimo perché stiamo già arrivando il tempo limite dell'ora di video dopo dobbiamo costruire le baracche per cecilia e brenda ma dobbiamo andare a prendere un sacco un sacco di roba un sacco di roba più che altro non l'accordo ragazzi la cosa mi raccomando di seguire il mio canale youtube iscrivervi al canale mi piace commentate porto un sacco di giochi oltre questo però tutta la serie la voglio portare perché questo gioco mi piace un casino quindi anche iscrivetevi al mio canale qui dove faccio le live tutti i giorni alle ore 21 e sabato e domenica anche una live in più alle ore alle ore 15 però seguite sempre facebook twitter instagram tiptock discord e telegram per sapere quando faccio le live ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao